Noi delle Radio Libere Con questo brano che si chiama Do It Again dal loro 33 Can't Spire Thrill In generale il 1978 si presenta per la riete come un anno positivo Radio Anna ha fatto per venire all'istituto di ricerche Amici ascoltatori, buonasera dal vostro Peppino Corona, mi trovo a Las Vegas In America ora è notte Come strana la natura a volte Mi dispiace che si ride così moribondi, mi dispiace Moribondi? No, moribondi no Buonasera a tutti, Anna Bettinelli, già come state con il sesso C'è stata l'udienza di Papa a voi chi va ai giornalisti Perché il passato abbia un futuro Broadcast Italia